Ma quanto è bella questa vacanza, vorrei che non finisse mai E chiama il direttore Giovannelli, gli inventi una scusa e non ci vai al lavoro Ma sei pazzo? Ma sì, tanto quella è scimonito, dica che stai male, ne putti Mi hai convinta Direttore Giovannelli, salve Buongiorno signore Di Stefano, mi dica Siccome sto un po' malino, non me la sento di rientrare domani Non è che posso prendermi un'altra settimana? No, non è che, perché lei sta male, allora l'azienda si deve fermare No, non è così che funziona, noi abbiamo bisogno di gente seria Dedita al lavoro, il sacrificio prima di tutto Ma guardi che io sto male per davvero E poi non vorrei compromettere la salute degli altri Vabbè, solo per questa volta Grazie, grazie Ci cascò? Ho preso in gire il direttore Giovannelli, ho preso in gire i... Direttore Giovannelli, buongiorno Signore Di Stefano Pronto? Pronto direttore Giovannelli, sono guarita Domani rientro al lavoro Perfetto Oh compa ma ci sei? No compa, sono bloccato con sta ragazza che è buonissima Natale che c'è qua? Guarda che... Guarda che cosa, compa questa è una ragazza incredibile Questa è di una bellezza inaudita Guarda qua che curve Cusci, vieni qua Cucina, ti cucina, ti fri, ti mangia, ti smonta, ti monta È incredibile, ti ricordo che da, secondo me è una che ci sta Ah, ci sta! Ci sta, ma poi la puoi trovare in giro Questa può essere la tua vicina di casa Forse è la mia ragazza Ecco qua qua, è appena arrivata Io sono Martina Bartolotta, la fidanzata Figure di merda Ciao Ale Ciao Giovanni Oh siamo tornati dalle vacanze eh Ah mi fa piacere, manco sapete che ce l'avete stati Ma come? Siamo mancati due mesi Ti ho pure dato le chiavi per innaffiare le piante E come stanno le piante? Come stanno? No, 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 lasci, faccio io Certo che è soddisfazione all'aspettare, eh, giocare con il nipotino Veramente è mio figlio, sono il papà, non sono il nonno E sicuramente avrà avuto suo figlio in età avanzata Veramente ho 40 anni Figure di merda Chiara, ciao, come stai? Bene, grazie Bene, ma certo che stai bene Ma questa non c'era prima dell'estate, eh, non c'era Ma perché non vi ho detto niente? Qua almeno siamo al quinto o sesto mese E questo bambino come lo chiamiamo? Che poi non so se è bambino o bambina Boh, ma che bella notizia E poi è bellissimo avere un bambino È sempre bellissimo Ma poi sono contenta per te Sono contenta per tuo marito È una cosa stu... No, sono incinta Chi sta e panza? Figure di merda Noi siamo i pa-da-boom Pa-pa-pa-pa-da-boom Pa-pa-pa-pa-da-boom Pa-pa-pa-pa-da-boom